Allora Sara come puoi ben notare ho creato il mio nuovo team di Istanbul Guys si chiamano i Blade so che tu vuoi andare da un cifra Io ve lo giuro sto spettando un po' E' il suo sogno nel cassetto Oggi lo andremo a realizzare con tre sigla Allora signori floor flip prima mappa Vediamo un po' Sara come sarà che verrà in questa posizione E' un po' scarsa Ma ma che dico che... Siamo in tutte le altre Ma ma ora Io sono andato finto la prima Sara Ah Zerby non ha passato al primo Ma che cazzo stai dicendo io ho passato No scusate Sara sera più stronza Bravissima Sara complinato Come faccio Vabbè davvero questo lavoro Complinato complinato Allora Sara se qui sei la prima ce la fai per forza Se sei l'ultima come adesso Mi sa che è un po' Forza Ma sei sempre lo che io rivo sempre prima Forza 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 Allora Sara qui ci sente forte contro di te te lo dico Ci sente molto forte Allora non la vedo molto propensa a qualificarsi Devo prendere qualcosa sicuro No Ma l'ho detto L'ho detto Una cosa ero certo Allora Sara Sara Cazzo Che figlio di me che sei facciato a fare Vabbè perché te l'hai fatto molto meglio Miglia io ho spaccato Sara Ti faccio questo di me No Sara Se non ce la fai di nuovo te lo faccio perché altrimenti poi ve li dicono Ok 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 Brava Forza 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 che ce la puoi fare Ho già un qualificato Sei tra i primi Bravissima 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 Sara non saltare Non saltare Cosa sta facendo Bravissima Niente Ma cosa sto vedendo No Hai mancato il cerchio Allora Sara Fanni Fanni Sei ridicola No Hai preso in mano il telefono Hai perso Allora Sara La seconda serie consiste nel battere me Quindi è molto Molto più veloce Già intanto la prima La 08 Ben Oh no Super alto Sarà che mi scavalca però è proprio una cosa Ma cosa vuoi Guarda era sopra Fra Allora qualcuno qui potrebbe aver pensato male Bravissima Sarà ottimo Vabbè raga Che trick Che trick Che trick Che trick La 08 best La 08 best del team La 08 best del team Signori Ma che trick Fra Inutile Ma tu non sai giocare Fra È inutile quel trick Fidati è inutile Ok Guarda Non c'è perché inutile Boom Boom Bravissima Il primo Bravissima Il primo Vai perché comunque io sono troppo forte Sì sì La 08 best del team Vabbè Comunque c'è la dire che qui Cioè vince chi arriva primo eh Come vuoi Il nome suo è proprio da denuncia Come vuoi Vai Seconda raga Seconda perché altri Ho voto Ho voto C'è una condizione armena Allora Seconda Hai perso pure quella Come hai fatto Non si sa No 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 A me se mi sono qualificato No 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 Mi sono qualificato Dobbiamo finire la partita Chi vince Dobbiamo finire la partita Guarda questa che sta fermo Cioè raga sta fermo Quanto è forte Vabbè davvero Ridicolo Ridicolo Noo Stambo Soccer No raga Stambo Soccer Troppo brutto Soccer Silenzio Silenzio in aula Ragazzi Pesante 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 1-0 è tanto easy 1-0 easy Sarà ma tu sei la sua giornata Si 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 palese Sarà ha fatto gol da sola Palese Stambo Soccer Ne sono entrate ombri Comprimamente che i compagni di squadra di Samu sono veramente ma veramente forti Si perchè io proprio ho il king della squadra Ok Dai raga Bravissimo Samu bravissimo l'hai tirata fuori Ma guarda ma gioca contro sto coglione I compagni di squadra di Samu sono un po' così eh Beh io non è che miglioro a livello della squadra però Sara Sara ti consiglio di andare in porta Sara Ma te Raga Ragazzi stanno giocando contro di me Ma si stanno facendo autogol Ma per forza perchè sei troppo scarsi Siete 6 a 3 Sai perchè perchè anche loro vogliono entrare nel team play Esatto Vabbè quindi stanno perdendo giusto 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 Esattamente Io sono così coglione che corro dietro la palla Ma ti immagini se Frai tra mia sorella nel team non entro io La 08 best Zerby non è entrato se entra la 08 best c'è qualche problema 7 a 5 Eh Frai mi sa che hai perso Si 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 è molto probabile Dai ragazzi abbiamo pochissimi secondi Ok non male non male non male Canta un 5 4 Gol Gol Ma che gol 6 2 1 Viva Allora Allora Sara vince Sara siamo 1 pari Ok Devi vincere la partita Sara Nessun problema No Frai in realtà dovrebbe arrivare prima di te No no dovrebbe vincere la partita questa volta No vintando la dica con me Perchè io sono fuori gioco Oddio che mappa è E' vero che lui è fuori gioco Super slide Ok ok Sara Si blocca sicuro il primo corso Vai Sicuro si blocca No 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 Ok brava 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 Mi senti male come inizio La 08 best ragazzi Fai una per il team blade Fai Il suo sogno nel cassetto Il suo sogno nel cassetto sta per essere realizzato Forza Vediamo un po' i trick Vi dico solo che sono entrato in camera sua aveva 800 poster del team blade Vi dico solo che aveva le foto di Lutz Kuba Sì Vi è il festo No C'era la prova C'era una probabilità dell'1% Che Per questo che sei la prima persona che vede Tu moris Sì ma raghi non posso parlare perchè ogni cosa che dico è un doppio senso Cioè volevo dire che prendessi il buco Però che cazzo Sam Sempre così Non si qualificherà mai 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 non vince Impossibile È il La seconda sfida è terza No siamo 1 pari Siete 1 pari 1 pari Ma che 1 pari Ma che 1 pari Sara complimenti se ufficialmente hai dato il team blade A me non sembra perchè abbiamo la terza sfida con le mani legate Vediamoci le mani A posto Ci siamo Non ci credo E come faccio a giocare? Così? Così? Va bene Allora Sfida come prima contro di me Sara Quindi difficile Molto difficile Vai Si va 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 Cioè sono io l'unica Esatto No è importante saperlo Stai senta qui perchè c'è una parte qui assurda Dove per forza deve esserci qualcun altro Sto è molto difficile Molto difficile intanto io l'ho fatto No vabbè non ci credo No vabbè raga Ha vinto con le mani legate Clamoroso Clamoroso Abbiamo ancora 2 partite Iori pronti quattensi via La 07 best Vabbè ci ho andato vicino ero più regali Stanno facendo il trick Vabbè se l'hanno buttato in mezzo niente Ma quanto sono forte Quanto sono forte Ti dico solo che apro pure le porte Cosa? Poi le rompi Vedrete nel video Vedrete nel video della vacanza santi odoro Sul canale di zelbi che uscirà proprio qui Easy 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 Signori tutti muti E' arrivato Samu Ma come vai ad essere ancora lì Sara? Ho proprio denotato Vabbè raga io ovviamente non ve lo so neanche dire qualificato Questa era proprio semplice No Sara se perdi sei vero Vabbè siamo 1 a 0 comunque Ma questa è ancora con le mani legate Era per la sbira di prima Come per la sbira di prima No Sara cazzo Ma com'è possibile che sei morto Sara ti devi muovere No sto non ti qualifica No no ce la può fare Tanto calcola che contro Stambul Guys Hashtag è 04181 Bravissima Sara Bravissima Bravissima Sara dopo di solito non sa neanche che cos'è Non ci credo No vabbè sono eliminati qui Cioè io vi dico solo che se la prendo nel team è proprio per Cioè per dire facciamole un piacere Facciamole un piacere Sara benvenuta nel team Ma va qualcuno Uuuuuh